Rassicurare i giovani rispetto al loro ruolo attivo nella scuola ma soprattutto nella società. Questa è una sorta di mandato, abbiamo letto nelle sue parole soprattutto quando ha fatto riferimento alla rete. Anche attraverso la rete i segnali di possibili pericoli possono essere colti soprattutto da questi ragazzi che sono considerati, sono battezzati nativi digitali? La rete va gestita, la rete è una realtà con la quale tutti quanti ci confrontiamo. È importante conoscerne le potenzialità, conoscerne i pericoli, soprattutto rendere dotti giovani dei rischi rispetto ad alcuni criminali che attraverso la rete cercano di commettere reati contro di loro. L'uso a corto senza dubbio aiuterà giovani come può aiutare tutti quanti.